L'impianto a Nocera Superiore con il trattamento del multimateriale, le polveri di silicio derivanti dal vetro, le strutture di compostaggio a Polla, Laurino, Casalvelino e Santa Marina. Sono gli impianti che Leda, l'ente d'ambito che gestisce i rifiuti di tutta la provincia di Salerno e di tre comuni in provincia di Avellino, ha candidato al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza per un importo di 76 milioni di euro. Realizzare questi progetti è uno degli obiettivi che si è posto Giovanni Coscia, rieletto all'unanimità alla guida dell'ente d'ambito di Salerno. Sono contento perché è l'epilogo di un quinquennio nel quale credo che abbiamo raggiunto insieme a tutto il Consiglio dei risultati anche in un certo qual modo non preventivati, tenuto conto che l'ente è partito da zero. E con il lavoro, con i fatti, con la nostra società ecoambiente siamo riusciti a mettere in campo già delle azioni che hanno dato dei risultati sul territorio in termini per esempio di abbattimento delle tariffe per il conferimento della frazione umida al sito di Sardone, per l'efficientamento di alcuni impianti che già c'erano, tipo il TMB di Battivaglia. Saranno cinque anni, ieri ho detto al Neoconsiglio che ci aspettano cinque anni di altrettanto duro lavoro perché pensiamo di chiudere effettivamente il cerchio sia sull'impiantistica, dove come sapete abbiamo presentato dei progetti per i fondi del PNRR per 76 milioni di euro e sia per l'affidamento degli altri servizi nei subambiti distrittuali che individuano il soggetto gestore unico, quindi per i servizi di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti. Presidente, lei ha un obiettivo ambizioso che è quello di rendere autonoma la provincia e la regione Campania perché solo così si potrà risparmiare veramente, non inviando altrove i rifiuti da smaltire. Certo, è l'obiettivo principale. Attraverso l'autonomia dell'ente di ambito, di ogni ente di ambito, rendiamo autonoma la regione Campania e quindi ci affranchiamo da altri impianti e altre situazioni che sono all'esterno della campagna. Uno, questo ci rende autonome e quindi ci eviterebbe delle probabili difficoltà di gestione dei rifiuti perché se gli impianti che accolgono i rifiuti campani o della provincia di Salerno non chiudono, noi corriamo il rischio di avere i rifiuti per strada, anche per esempio in piena estate come l'abbiamo corso circa tre anni fa. E l'altro perché così facendo, quindi con la rete di impianti della nostra provincia e della Campania in generale, ci consentirebbe di abbattere enormemente le tariffe di conferimento e quindi di far risparmiare i cittadini dei nostri territori.